Ok, cominciamo, dai. Vado? Sì, puoi. Buongiorno, sono Vinaluzio Massimiliano, vengo da Portuguaro, ho conosciuto il dottor Mottenko attraverso il mio commercialista, sono venuto via un po' titubante qua in Croazia, perché non sapevo cosa mi aspettava, però ho avuto modo di ricredermi e di valutare la professionalità di questa persona, l'umanità, cosa che manca tendenzialmente in molti studi, mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la vita perché il lavoro che mi ha fatto è stato fatto in modo professionale, l'accoglienza che ho avuto è stata umana e proprio ci si sente a casa, tant'è vero che quando sono venuto qua quello che mi ha colpito è stata la serenità da parte dei pazienti nell'approcciarsi a un lavoro importante come quello che tra l'altro ho fatto io. Ecco, io volevo ringraziare il dottor Martinko e il suo staff perché veramente mi hanno cambiato la vita e se questa mia testimonianza può servire a chi ha avuto paura o ha avuto esperienze negative in Italia, vi dico venite qua dal dottor Martinko che vi danno una buona accoglienza, vi danno un appartamento gratuito e tanta amicizia oltretutto, grazie.